Uno, due, tre... Appena svegli siamo saliti su un pulma e siamo arrivati nella stella del campus formativo di Terna a Roma dove si svolgono le prime lezioni del Master del Tirrenial Lab e hanno pure consegnato un laptop a tutti! Roba da metterci la firma! Poi sono iniziate le lezioni Pronti ragazzi? Prontissimi Cosa ti hanno dato? Ma guarda qua c'è un mystery box e poi un bel laptop pronto a studiare il blog Le lezioni sono state interessanti prevalentemente hanno presentato bene Terna hanno fatto capire come organizzate il suo ruolo nel sistema elettrico nazionale Ci hanno anche fatto fare un test perché non si sa mai abbastanza sull'azienda che gestisce tutta la rete di trasmissione elettrica in alta tensione in Italia Al vincitore ha dato un libro Durante la pausa pranzo ho chiesto un po' di pareri Allora ragazzi come vi è sembrato? Tutto molto innovativo I risultati sono ottimi Un po' duro Perché comunque faremo parte di questa transizione e la faremo direttamente anche noi Un elemento di pregio e di valore per questo Master Breve momento foto E poi ci siamo spostati nella sede in cui lavorano i professionisti delle strategie di sviluppo rete e di spacciamento che hanno voluto dare il benvenuto ai nuovi Mastery Zandi